Sono numerosi i racconti di persone che hanno osato entrare nell'ospedale abbandonato di ovrino e che sono misteriosamente scomparse. Le testimonianze parlano di un luogo inquietante, dove l'atmosfera è carica di oscurità e di presenze malvagie. L'edificio, un tempo pensato per essere un moderno centro medico, oggi è ridotto a un enorme scheletro di cemento abbandonato. La sua costruzione risale ai primi anni 80, ma a causa di errori di calcolo nella scelta del terreno su cui venne edificato, le fondamenta iniziarono a cedere sin dai primi tempi. L'intero complesso era stato progettato per ospitare 1300 posti letto e diventare il centro medico più qualificato della zona, ma le scarse condizioni strutturali impedirono all'ospedale di essere mai utilizzato per la sua funzione originaria. Dopo anni di abbandono, l'ospedale è diventato un luogo di incontro per personaggi loschi e pericolosi. Satanisti, fuggiaschi, malavitosi e psicopatici hanno trovato rifugio all'interno delle sue mura, dando vita a scene di crimine e violenza. Le mura dell'ospedale avrebbero assistito a riti satanici, omicidi e rapimenti. I sotterranei, ormai completamente allagati, sono luoghi cupi e inaccessibili, perfetti per nascondere tracce e far sparire le persone che osano avventurarsi al loro interno. Nonostante la pericolosità di questo luogo, alcune persone ancora si avventurano all'interno dell'ospedale abbandonato di ovrino, spinte dalla curiosità o dalla sfida. Purtroppo, tali imprese spesso finiscono male, con le persone che vengono indiottite dalla malvagità che ancora leggia tra le sue mura. Tuttavia, la maggior parte delle persone sa bene che è meglio tenersi alla larga da questo edificio maledetto, conosciuto ormai come il «ospedale killer». Le autorità locali hanno cercato in passato di recintare l'area e monitorare il sito attraverso l'installazione di telecamere di sorveglianza, ma l'abbandono di questa struttura è tale che il controllo delle sue attività risulta quasi impossibile. L'ospedale di Ovrino rappresenta un mistero irrisolto, un luogo in cui la gente scompare senza lasciare traccia e i segreti oscuri rimangono sepolti tra le sue mura di cemento. In definitiva, l'ospedale abbandonato di Ovrino rappresenta un esempio emblematico di come la reputazione di un luogo possa essere distorta da racconti e leggende metropolitane. Se è vero che la criminalità esiste e che esistono zone pericolose in molte città, è anche vero che spesso le persone si lasciano influenzare da stereotipi e pregiudizi senza conoscere la realtà dei fatti. L'ospedale di Ovrino è diventato un simbolo di questo fenomeno, una leggenda urbana che si alimenta delle paure e della curiosità delle persone, ma che nasconde una realtà molto più complessa e misteriosa. Per molti anni, l'ospedale di Ovrino è stato un luogo pericoloso, accogliendo clochari in cerca di un rifugio e appassionati di sport estremi. Le attività sportive estreme hanno trasformato questo luogo in una meta di pellegrinaggio per turisti e fanatici degli sport adrenalinici, che hanno attirato anche l'attenzione di persone che non cercavano curiosi in zona. I residenti locali chiamano questo luogo «ospedale killer» con un motivo preciso. Nel corso di 30 anni, oltre 100 persone sono sparite senza lasciare traccia. La maggior parte delle vittime erano senza tetto o turisti, alcuni dei quali sono stati ritrovati smembrati. Solo con l'intervento delle forze armate scortate dall'esercito gli omicidi sono stati fermati. Nonostante la presenza di telecamere di sicurezza e una recinzione, le notizie di stupri, omicidi, traffico di armi, droga e risse tra bande locali all'interno dell'edificio sono ancora frequenti. Le autorità sembrano essere caute nell'intervenire. I residenti del quartiere limitrofo vivono nella costante sensazione di essere spiati e molti credono che nell'oscurità dell'ospedale si nasconda un mostro pronto ad attaccare chiunque si avvicini troppo. Inoltre, la presenza dei satanisti è una grande preoccupazione sociale e non è insolito vedere nuove scritte blasfeme sui muri. Nonostante tutto ciò, nonostante sia considerato il «luogo del male» di Mosca, molti sono ancora incuriositi e desiderosi di sfidare la reputazione dell'ospedale abbandonato. Il turismo in quest'area rimane consistente ogni anno. Tuttavia, a volte, alcune persone non riescono più a trovare la strada del ritorno.